Ciao a tutti ragazzi sono Gongs e Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo su Fortnite Battle Royale Sto provando la nuova sensibilità e sto giocando comunque alla modalità classificata Per fare i 50 game e sbloccare la spray paint che regalano solo se finisci i 50 game La sensibilità è questa ragazzi, 600 dpi, 0,09, 60 e 50 Andiamo in partita Ok ci siamo, ci siamo, vediamo un po' dove posso scendere Parco Pacifico o Acri Anarchici, penso Acri, non dovrebbe essere un brutto posto dove atterrare Spero mi porti anche fortuna, allora mi lancio tipo adesso Ok forse siamo 3, forse siamo 4 Ma non ne sono sicuro della cosa quindi devo stare molto attento comunque Anche se c'è un altro player e basta oltre a me devo stare comunque attento perché non si sa mai O posso essere sfortunato io o può essere molto più bravo lui di me E quindi potrei morire da un momento all'altro Intanto mi controllo, sotto di me non c'è nessuno, sopra di me sono uno E basta? Sembrerebbe solo un altro player al momento quindi vediamo un po' che cosa riesco a fare atterrando qua Assalto Vende e munizioni E la cesta è qua Quindi spacco veloce Vediamo cosa c'è Dai ma la minigun non la voglio io Mi serve un fucile a pompa non altrimenti Per favore intanto controlliamo dove è atterrato l'altro tipo Non lo vedo Ok per la pistolina ma per la minigun ancora non sono d'accordo Non mi piace proprio quest'arma, proprio per niente ragazzi Infatti la cambio per una revolver Continuo a non vedere nessuno Ok, vediamo se c'è l'altra chest No Sono sceso direttamente al piano di sotto per vedere se ci fossero, non lo so, degli scudini nella camera Vediamo un po' qua, non c'è nulla Faccio giusto un altro po' di materiali Continuo a non vedere nessuno Un altro No, non ci credo Non è possibile Vabbè, mi bevo questo velocemente La pistola me la tengo qua E torno su a prendermi anche la revolver O meglio, torno su Posso saltare e prendermela da qua Olè Ok, dove devo andare? Dove è sceso il tipo? Dove devo uccidere la persona? Qualcuno è venuto a scocciarmi qua nella mia città Devo assolutamente sapere dov'è Trovarlo E ucciderlo E ho anche delle granate che non sono malissimo sinceramente Però al momento non vorrei buttare No, non butto la revolver Mi potrebbe servire da distanza Un altro scudo Peccato non avere un fucile a pompa, che cavolo Quello è? Un fucile a pompa? È un fucile a pompa? Sì Grandissimo Altre munizioni per l'assalto Altre munizioni per il pompa Dove è quel tipo? Ancora non lo vedo Altre granate Ho il doppio pompa Io Starà spaccando qualcosa da qualche parte Boh È completamente sparito Non lo vedo da nessuna parte Qua non ha lootato Oppure non c'è la... Eccolo dove ha lootato lui Ma... No È morto istantaneamente? Stava giocando con la musica Perché la chest ragazzi si sente O comunque... Cioè Sei in ambo Perché non la puoi non vedere quella chest Ha lootato il resto? Anche se la chest come avete visto è silenziosa Comunque ragazzi Dovete controllare È un... È un possibile spawn delle chest Sapete che c'è il bug delle chest Andate guardate Il problema ora è Dove è andato lui? Non è la minima idea Qua ha sfondato È passato qua da destra Magari prenderà a prendermi nella casa Anche qua non ha lootato Si accorgerà che qualcuno è passato Sì Qua c'è un assalto blu Non può già avere lo scar Boh ragazzi Ma... No vabbè io non capisco Come sta giocando quello lì Ha sfondato lì nella casa Ma perché? Ha visto che era lootato Eppure non lo ve Boh Io non ho parole Mo' voglio sapere cosa aveva di meglio dell'assalto blu Niente Appunto Però mi ha dato un upgrade delle armi E... Son contento di questa cosa Lo slurp non lo lascio a nessuno Questo me lo prendo Il fucile a caccia me lo tengo E vediamo un po' di andare avanti Vado verso loot lake o tomato town Mi sono incastrato perché mi stavo grattando Ok Mi servono altri materiali Assolutamente 484 Diciamo che come inizio non è male Se trovassi un lama adesso sarebbe perfetto Ma proprio La cosa migliore che potesse succedere Altre munizioni del pompa Cosa c'è qua dentro Uuuuh Eccolo qua Eccoci qua ragazzi Uccide al cecchino E ora posso iniziare a muovermi Perché tanto Non c'è più niente che mi serva in questa città Ho già il loadout completo A parte Non lo so Un chag jag Dieci scudini piccoli Ma quelli li trovo solamente uccidendo altri player Questo è carico Questo è carico Questo è carico Questo è carico Perfetto Qua c'è anche una cesta oltretutto Sì ci sto mettendo un po' a luttare Però comunque Vedete Ne vale la pena Tre scudini piccoli Devo solamente decidere Al 100% Dove me ne voglio andare Da destra arriva gente A parco pacifico Quindi provo ad andare verso lì Sicuramente me li incontrerò Più o meno In questa zona qua Devo stare attento Quindi ecco Vedo le prime costruzioni I primi fight Più o meno seri Quella vending Sembra leggendaria Ma non penso lo sia Gente che è scesa dalla montagna Gente che aveva una base Sopra quella montagna La zona che inizia a chiudersi Ok Vado proprio verso il bordo Per vedere un po' Se riesco a trovare altri player Perché ho fatto un solo fight Che Boh era senso unico Io l'ho sparato Lui mi ha guardato Io l'ho sparato E l'ho ucciso Non ha Non ha sparato un colpo Lui Non ha fatto nulla E infatti Mi dispiace un po' Per lui Ma Quello è un minigun Non mi serve Se quello è un minigun Non mi serve Se quello è un tattico blu Però si Ma non penso lo sia E' un altro assalto blu Ok Qua sotto c'è un cecchino Non vedo nessuno La cosa è abbastanza strana Vending blu Cosa dà per il legno Develoce 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 Camfer Non mi serve Boh io sto gironzolando Sono in safe Dovrei almeno Vedere qualcuno Sentire uno sparo Non lo so Invece Proprio Nulla Neanche in mezzo al lago Vedo nessuno A meno che non ci sia qualcuno Dentro la casa In mezzo al lago Ma la vedo difficile Però qualcuno Potrebbe essere Là sopra Proviamo Eh vabbè C'è qualcuno Sopra di me Perché sei sceso? Non voleva morire Per fortuna Aveva un campfire Questo Con chi ce l'ha quel cecchino? Giusto per curiosità E da dove Vuole sparare? Uno scudino veloce Questo lo devo ricaricare Questo è carico Non ho capito Da dove stesse sparando Il cecchino Sinceramente Ma mi piacerebbe Saperlo Sono messo male Ora Molto messo male Lui deve uscire Dalla zona Vero? Deve uscire Da dove adesso Il problema È che potrei essere Circondato da cecchini E mi servono Le bende Che ho lasciato Dentro questo portafort Perché ci sono Ancora le bende Nel portafort Vero? Ditemi di sì Non aveva? Non aveva bende Questo? Ma soprattutto Dov'è il tipo? È ancora là dentro? È morto Cavolo È morto Frizona Siamo in 16 E Anarchy È ancora dentro la zona Io non ho parole Ho bisogno di un po' Di bende Assolutamente E se le trovo Anche un po' Di munizioni No Non ne trovo Qua di sicuro Non vedo nessuno Lì non c'è nulla Di interessante Non ditemi Che c'è veramente Il tipo dentro la casa Perché Vi giuro ragazzi Che è Impazzisco Non può essersi Barricato dentro la casa Lo spero per lui Cosa c'è di leggendario Là in terra Mai che si vede Ho un minuto E dieci secondi Per arrivare lì Controllare che cosa è Un minigandorat Va bene Meno male Che non sono andato Lì piuttosto C'è Che cosa C'è qua Oh mio dio Ma tutti questi fight Come me li sono persi C'erano Già stati Prima che io Arrivassi Vero Perché non è possibile Sono qua da mezz'ora Non sento spari Da nessuna parte Quei due che stanno Fightando là in fondo Non mi interessano Me ne vado veloce Ok Quei due stanno ancora Fightando Mi sa Sì Un alfamas Ce l'ho anch'io alfamas Non so il perché Non so come Me lo sono trovato Nell'inventario Però comunque Devo entrare in zona Quei due aspetto Che si finiscano Di fightare Poi inizio a sparare Anch'io Siamo in undici Dovrei avere Sicuramente Qualcuno dietro Nessuno è caduto Ok Ho bisogno Di usare Un campfire Uh Bella 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 Chiedimi la porta Per favore Questo lo ricarico Questo Non ho bisogno Di ricaricarlo Ora Ho molti materiali Devo stare attento Ai tipi Che mi appaiono Sicuramente Da questo lato Dai Campfire Curami veloce Ti prego Non sono arrivato A 100 Meno un altro Ancora Grazie mille Anche per gli scudini E per l'altro Campfire Munizioni al massimo Una cosa solo Mi dovrebbe interessare Ora Non morire Ok Dovrei Dovrei avere Abbastanza Tempo Per usare Il medikit Sento Fight Uno è morto Subito Quindi è stato Un headshot Di quelli Proprio Forti Forti Il problema Ora è che Devo Trovarli No Dove vi siete Uccisi Giusto Per curiosità Vorrei Un paio Di informazioni Eccolo Lì Era davanti A me Non mi sono coperto Quindi il cecchino Da dietro Mi ha ucciso Ovviamente Maledetto Maledetto Non ci credo Bene ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Se l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche i social Che ci sono in descrizione Ci vediamo in un prossimo video Grazie Arrivederci Alla prossima